Chiuso il sipario sul primo weekend del 44esimo Rossini Opera Festival, la direzione del ROF guarda già alla 45esima edizione, quella del 2024, quella di Pesaro, capitale della cultura. Un'edizione che è stata presentata con 12 mesi d'anticipo in occasione del secondo ROF Talk tenutosi sabato nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Svelato manifesto, programma e date delle Rossini Opera Festival Extra Large per l'anno di Pesaro capitale. Cinque opere e un programma che si dilaterà nei giorni, anticipando la partenza al 7 di agosto e chiudendo il sipario il 23 agosto 2024. È un'edizione importante perché Pesaro capitale della cultura e diciamo che questa situazione un po' diciamo il ROF ha la contribuita a creare, per cui noi faremo un'edizione diversa e nel senso che più grande aggiungeremo 4 giorni alla programmazione, un totale di 30 spettacoli con 4 titoli diversi, 9 produzioni e 2 riprese. E mentre questa 44esima rassegna sta consumando il palco della Vitre Frigo Arena, il presidente del ROF, Daniele Vimini, ha assicurato che per il 2024 il festival tornerà al Teatro Rossini e punta ad aprire il sipario con la nuova produzione Bianca e Fagliero nel vecchio palasport di Viale dei Partigiani, futuro Auditorium Scavolini. Bianca e Fagliero sarà all'apertura e seguirà l'altra nuova produzione, Ermione, mentre i due titoli che riprenderemo sono il Barbieri di Pizzi, fatto nel 2018, e l'Equivoco stravagante, fatto nel 2019 con la regia di Leiser e Cavriere. E chiuderemo celebrando i 40 anni della prima esecuzione del viaggio a Reims, quello diretto da Claudio Abbado e che portiamo come fiore all'occhiello al ROF e sarà un'edizione che chiuderà in forma di concerto il festival con un cast di artisti al top.